Un lavoro comunitario per riorganizzare la progettazione dello sviluppo della città. È questo l'intento dell'assessore al patrimonio e alla pianificazione del territorio di Feltre, Irma Visalli, alla quale da poco sono state conferite anche le deleghe al commercio e alle attività produttive. Ritengo che la città sia nel suo insieme un sistema di produzione e quindi tutte le varie sfaccettature, a partire dal commercio, saranno molto legate a questo momento così importante della trasformazione urbana. Però è anche vero che faremo un lavoro, spero, di unità, di riunificazione anche delle voci e degli interessi perché è importante che la città di Feltre si muova da questo punto di vista in forma unitaria. Partono peraltro quattro incontri adesso a breve, 26-27 novembre, 3-4 dicembre, sul piano degli interventi della città. Questo sarà uno dei momenti in cui discutere di queste cose. È importante che a questi incontri possano partecipare. Ringrazio quelli che ci ospiteranno perché sono stati con Fartigianato, la parrocchia di Farra, la scuola di musica unisono, il centro dei servizi e il volontariato a ospitarci. Sarà un momento importante per discutere di tanti temi e soprattutto per ripartire in questo senso con una bella novità per quanto riguarda ad esempio il commercio, che è il distretto del commercio. Abbiamo saputo che Capofila Belluno con Ponte nelle Alpi siamo uno dei distretti che la regione cofinanzierà nei prossimi mesi. Per il distretto del commercio sono previste risorse per 94.000 euro a fronte di un cofinanziamento comunale di altri 100.000 euro finalizzate a dare supporto a questo segmento della vita economica e non solo della città.